Buon giornata. Grazie. Silenzio. Posso avere silenzio? La parola di oggi è metamorfosi. Uno, cambiamento di forma, di aspetto, di struttura, di sostanza, trasformazione. Due, parziale o completo cambiamento di carattere, aspetto o condizione. Ciao! Chi vuol comporre una frase, signor Martelli? Non ho mai visto una metamorfosi che non mi sia sembrata un successo. Grazie. 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 Grazie.